Sì, continuiamo ad aggiornarvi sulla marmolada, naturalmente con rispetto per le famiglie e per le vittime, parlando esclusivamente, nel nostro caso, di cambiamenti climatici, perché è da qui che bisogna ripartire, imparando la lezione e quello che ci stanno dicendo gli esperti, una lezione che arriva anche dall'Egambiente, un grido d'allarme, la montagna sta collassando e sta diventando sempre più fragile, urge mettere in campo politiche climatiche più ambiziose e ci commenta appunto questa richiesta, questo grido d'allarme, con me il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro. Presidente, serve appunto cambiare, serve imparare, serve non commettere più gli errori che abbiamo purtroppo commesso in questi giorni e anche in passato, com'è la situazione dei nostri ghiacciai e quali sono appunto queste politiche ambiziose che dobbiamo mettere in pratica. A lei. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto mi aggiungo a un pensiero per i parenti delle vittime di questa tragedia immane. Per quanto riguarda lo stato di ghiacciai, purtroppo sono qualche anno che Legambiente, con una campagna specifica carovana di ghiacciai, lancia un urlo al posto loro per raccontare al Paese come questi siano in ritiro. Praticamente tutti i nostri ghiacciai sono in ritiro, nell'ultimo anno hanno subito dei ritiri importanti. Se guardiamo a quello della marmolada, possiamo dire che dal 1900, da quando sono iniziati i primi del 1900, le indagini per capire come si comportano i ghiacciai, ad oggi vediamo un ritiro di circa l'85% del volume del ghiacciaio. Un dato che va preso in considerazione alla luce anche dei cambiamenti climatici, e questo è l'elemento forse più centrale che nell'ultimo ventennio stanno subendo un'accelerazione che possiamo definire e giustamente definiamo incontrollabile e inaspettata. Da un certo punto di vista lo è per le sue conseguenze, non certo per il fatto di non sapere che questa accade, perché gli eventi estremi si sono susseguiti negli anni. Abbiamo già avuto vaia, ad esempio, nelle nostre montagne, che era un campanello, poteva essere già considerato un campanello d'allarme, ma abbiamo altri fenomeni estremi, senza dimenticarci le temperature in aumento, abbiamo registrato più 10 gradi in cima alla marmolada, abbiamo lo zero termico, ci dicono gli scienziati, che è arrivato quasi a 5.000 metri, e questo comporta non solo lo scioglimento e queste situazioni di pericolo per i ghiacciai, ma un generale pericolo per il permafrost, cioè forse lo conosciamo meno, ma è tutta quella superficie non ghiacciata, di terra che si ghiaccia, quindi non è ghiaccio, ma è terra ghiacciata, anche a più basse altitudini, che anche questa rischia di compromettersi, perché giustamente con il calore si adatterà a un clima diverso che stiamo cambiando. Ecco, dobbiamo assolutamente rallentare e cosa c'è da fare? C'è da fermare sul riscaldamento del pianeta. Quei 1,5 gradi in più che ci possiamo concedere, stabilito dall'Accordo di Parigi nel 2015, ratificato da tutti gli Stati e che ci deve vedere impegnati per rallentare le emissioni, significa tradurlo in azioni concrete, che ovviamente non siano riprendere a produrre con il gas, piuttosto che con il nucleare, piuttosto che con centrali a carbone. Serve una propulsione sulle rinnovabili e dobbiamo assolutamente metterle in campo, perché è da lì che deriva il principale problema del nostro pianeta. Presidente, però per anni ci è stato insegnato che noi dobbiamo acquistare, spendere, comprare, consumare, quindi adesso c'è da imparare un cambio stilistico di vita completamente all'opposto, completamente, insomma, drasticamente diverso dal passato. Siamo in grado di uscire dalla nostra comfort zone, cioè di non avere l'aria condizionata H24 accesa nei nostri negozi, nei nostri palazzi, nelle nostre case. Siamo in grado di tornare a camminare, a pedalare semplicemente con una bicicletta, al posto di utilizzare sempre la macchina anche per fare 100 metri e così via. Tutto quello che stiamo, insomma, combinando a danno della salute del nostro pianeta. Ma diciamo che ci sono degli ottimi segnali, perché ci sono performance che migliorano per molte città e per molti territori nella nostra regione, ma in tutto il paese. Il tema della ciclabilità, ad esempio, piuttosto che dei mezzi elettrici, piuttosto, insomma, di un'inversione di tendenza che procede ancora lentamente. Certo, dobbiamo imparare a comprenderlo anche sotto l'aspetto economico, è fatto bene a sottolinearlo, perché questa situazione espone al rischio quello che è successo nelle Dolomiti, che potrebbe succedere in assenza di nevi nel prossimo inverno, piuttosto che in assenza d'acqua che stiamo già vivendo, piuttosto che altre situazioni estreme. A queste risponderà anche chiaramente un problema per l'economia del territorio, perché abbiamo capito che c'è una vita di turismo in quel territorio importante rispetto alle Dolomiti, ma c'è anche un contorno, diciamo, di economia che si basa sulla qualità delle montagne. Se queste vengono a mancare, così come per i fiumi, i laghi, piuttosto che altri territori, ecco che l'aspetto economico si deve vedere protagonisti di questo cambiamento che ha raccontato, non solo, diciamo, smettendo di fare quello che facciamo, ma transendo, quindi facendo una transizione, usando le energie rinnovabili, installando impianti fotovoltaici, installando impianti di energie rinnovabili il più possibile, per raggiungere quegli obiettivi già stabiliti, non solo dall'Europa, ma anche dal nostro paese, con un piano di energia. Presidente, però, le voglio chiedere una cosa. Si parla di, appunto, transizione per quanto riguarda, ad esempio, le autovetture con l'elettrico, lei ha parlato di fotovoltaico, ma sappiamo benissimo che le batterie vengono prodotte, innanzitutto, in un paese che al momento sembra se ne freghi di inquinare o non inquinare il pianeta, sto parlando della Cina, e soprattutto non si capisce come poi sostituire e dove smaltire le batterie esauste e comunque hanno un costo di produzione anche in ambito di natura, perché hanno all'interno dei materiali che vengono estratti a caro prezzo in paesi, magari, passatemi il termine, con uno sviluppo, insomma, un po' meno rispetto ai nostri, insomma, standard. E le voglio anche chiedere, sì, ma questo fotovoltaico, anche questo fotovoltaico, appunto, ha dei costi, soprattutto in ambito di natura e di produzione, e di consumo anche del suolo. C'è stato, insomma, un cambio per quanto riguarda l'impianto in passato sul terreno del fotovoltaico, però c'è sempre un consumo. Beh, devo dire che in questo caso la scienza ci viene in aiuto. Siamo a Padova di fronte all'Università, al BO, ed è qui, e in altri istituti di ricerca, che andiamo a cercare le risposte. In questo caso la risposta è che noi abbiamo la necessità di produrre energia da fonti rinnovabili, perché l'impatto, la scienza ci dimostra, è molto più inferiore sia per l'estrazione dei prodotti, sia per l'effettiva possibilità di riciclare, sia per le emissioni in atmosfera, che sono l'elemento centrale che dobbiamo tenere sotto controllo. La tecnologia e la ricerca oggi ci viene in aiuto, quindi anche sotto l'aspetto del riciclo dei pannelli fotovoltaici e di tutte le componentistiche abbiamo molte più opportunità di quante non ci fossero nel passato. C'è da dire poi, purtroppo, che riguardo alla produzione, questo è un paese che ha abbandonato non solo nel settore della produzione energetica, quindi di pale, fotovoltaiche, eoliche, piuttosto che pannelli, piuttosto che altri prodotti come le batterie, ma ha abbandonato anche alcuni aspetti della produzione alimentare di cui ci approvvigioniamo dall'estero, piuttosto che tantissimi altri prodotti del mercato, diciamo dell'industria, che oggi produce all'estero. Quindi è un tema che dovremmo affrontare con più ampia scala, immagino, per riportare le produzioni anche attraverso quello che è il Green Deal, come ci chiede l'Europa, come abbiamo tradotto, nel PNRR, quindi mettendo in campo tutte le energie e le risorse per realizzare impianti di economia circolare e garantire a questo paese di poter essere capace di produrre anche quello di cui ha bisogno, quindi anche gli impianti fotovoltaici, piuttosto che eolici. Lazzaro, io la ringrazio, chiudendo e tornando per un secondo ancora sulla marmolada, i nostri ghiacciai sono in via d'estinzione e dopodiché cedo la linea allo studio, ringraziando appunto il presidente Luigi Lazzaro di Lega Ambiente Veneto. Sì, i nostri ghiacciai sono veramente a rischio, o teniamo la temperatura sotto grade e mezzo, quindi mettiamo in campo tutte le risorse in quella direzione per questo paese, oppure ci troveremo alla fine del secolo a non avere più il ghiacciaio del Dolomiti, uno dei più importanti, penso anche dell'arco alpino, e non sarà l'unico a scomparire e questo dovrà farci riflettere anche rispetto alla storia, al passato che lasceremo le future generazioni che probabilmente vivranno un presente molto diverso da quello che noi abbiamo vissuto. Allora serve un impegno veramente coraggioso, così l'abbiamo definito da parte delle istituzioni, per mettere in campo non solo le idee, le proposte e i ragionamenti, ma anche gli atti concreti che ancora non vediamo. Grazie, è tutto a voi studio se non ci sono domande.